Abbiamo toccato il fondo, bisogna assumere la responsabilità, il primo responsabile sono io. Questa è una squadra che se non gioca sui 20-25 metri, se non chiude linee di passaggio, se vai a fare una pressione a livello individuale, ti mettono sempre in difficoltà le squadre avversarie. Puoi anche sopperire alla condizione in fisica. Ci vuole l'anima, ci vuole voglia. Tento dire rivoluzione o rivoluzione. Questa è una squadra, dobbiamo cambiare qua, qua e qua. Vi faccio vedere gli allenamenti di un mese fa, gli allenamenti di oggi, sul cartaceo. Oggi la squadra riesce a tenere i stessi ritmi, anzi ancora più forti, picchi di velocità totalmente diversi. Il fatto è che non si vince da 40 giorni. Ragazzi, ma venire qua con la faccia da ebbete e sorridere, e mancanza di rispetto nei vostri confronti, vuol dire che non tengo al mio lavoro. Parte da qua, dalla mentalità. Sei il campione delle partite, non lo fai arrivare nemmeno nei 10 metri nell'aria. Vuol dire che non sei così scarso, vuol dire che sei bravo, vuol dire che quando c'è attenzione e c'è il veleno, vuol dire che sei un giocatore forte, sei una squadra forte. No, è la mentalità. Oggi bisogna lavorare su quello.